Per una maggior tranquillità delle mamme è importante riconoscere alcuni segnali per cui recarsi in ospedale. Quali sono questi segnali? Innanzitutto è fondamentale riconoscere l'attività contrattileuterina da travaglio di parto, dove le contrazioni uterine risultano essere regolari e dolorose, della durata di circa 60 secondi ogni 3-4 minuti circa. Differenza fondamentale con il periodo prodromico, dove le contrazioni risultano essere irregolari e poco dolorose. Quali sono gli altri segnali per raggiungere l'ospedale? La rottura del sacco amniotico o perdita delle acque, che può essere abbondante o scarsa. La riduzione dei movimenti attivi fetali, che devono essere almeno 10 movimenti al giorno. La presenza di perdite ematiche. Che cosa fare quando le contrazioni iniziano a casa? Innanzitutto è importante utilizzare tecniche di rilassamento e respirazione. In più sono consigliate l'utilizzo di docce calde e bagni caldi. In questo periodo potresti avere delle perdite gelatinose misto sangue e questo si tratta del tappo mucoso. Il tappo mucoso ha la funzione di proteggere il tuo bambino per tutti i nove mesi di gravidanza.